Questo è un altro gioco, vecchissimo, per ora ne farò una serie di questi giochi. Ai tempi mi piaceva perché questo effetto è bruttino. Capitano, stanno per arrivare i pirati spaziali. Costruisci un cannone per difendere la base. Eccolo qua, ora ci siamo. Sì, ecco, così lo potremo girare un po'. No, no, no. Accediamo a Facebook. Accediamo, tanto bene. Ah, non ho proprio niente, proprio di risorse. Ah, qua ce l'ho. Ecco. Non c'è bisogno, grazie. Non c'è bisogno. Allora, squadra. Ovviamente non sono da nessuno. Andiamo qua. Supporto è inviato. Ma, no, non mi piace. Andiamo qua. No. Peggio. No, 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 ce n'è una più attiva. Sembra che non c'è. No, peggio. No. Vabbè. Facciamo questo, vediamo. Ah. Oh no. Fammi vedere. Aspettiamo quanto fa ma ho. Io ho... 1.015, ok. a zero proprio qui entra chi vuole una stop squadra oh perfetto però sono tutti pieni vediamo questo e già qua ci siamo invito come invito ma che parla chiusa però va bene intanto ora non so se continuerò perché qua ci sono gli eroi come sempre ok quindi costruisce ok questo non posso difese va bene vorrei vedere se c'era qualcosa di che Al massimo, giusto? Ecco, quello che posso volerciare mi spunta la freccia. Vabbè. Questo qua ci vogliono tutte le pezze, abilità, solite cose, che poi chi vada di più... Ah, no, no, questo è lo... Aspetta, no, chiedo scusa, questi... Ah, no, sono un altro. Vabbè. Ah, no, è lo stesso. Allora, adesso, volevo provare a fare... Un attacco. Una mappa. Queste è la mia base. Andiamo, facciamo un PvP. Compa. Ah, addirittura. Ma... Allora, non mi è piaciuto proprio... Praticamente non ho capito i PvP come sono. Che si fanno. Un attimino. Allora, io cliccavo... Questo. Questo. Un attacco di spiegato. Un attacco di la scuola. Un attacco di la scuola. Un attacco di la scuola. Allora, se è così... È peggiorato. Secondo... Ah, forse devo fare... Vabbè, niente, questa è un'altra cosa. Però non mi piace... Allora... Mi spesa... Andiamo... Allora... Allora... Non ci trovo... Lo stesso... Wasn cerco di... Allora... I lopi... ... Grazie a tutti. No, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. 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 Non è vero. Non è vero.